Aspetta che vengo. Ah, ecco. E' un altro. Olimpi. Però è voluta, vedi, è il lavoro questo qui, simile a quello che ha fatto Andrea Babassoli. No, no, c'è. No, no. E' in 2.4. Ah, no. Madonna. Ma che fai? Niente, se ti dico che è successo. Ma chi è che vola? Era un volo. No, era un volo. Ma è un volo? Ha decollato da lui. Oddio. Porca miseria. Ma ha capito che è successo? Mario, ho decollato il morello senza guardare. E' venito proprio. Con te i modelli volano da soli. Stavano parlando con la radio accesa il modello è decollato da solo. Allora, allora è da scrivere. E' bellino, è tutto filmato, guarda. E' incredibile. Praticamente lui ha fatto vedere la radio e lui muoveva le cloche, Benito muoveva le cloche. A un certo momento, se giriamo, il modello era in volo. Eccolo lì. Questo ti mostra che comunque cosa gli metti qua. Benito, è Benito. Se c'era bisogno tu la dimostrazione. Non è adulazione. Dove? Ma è partito da lì? Il bagagliaio non finisce. San Benito. Ma io mi giro, ma quel modello, ma che è? Ma quello è il tuo? Che è successo? E' decollato da sé. Lui faceva vedere la radio a Bertolani. In un certo momento ci voltiamo. E' decollato meglio prima. E' decollato da sé, Benito. San Benito da Lucca. Se provi a farlo sì, ma è raccattato con la busta. Questo è il volo libero. Ne è mai successo di vedere una cosa? Oh, mamma, è tutto filmato, guarda. Era un volo, eh? Sì, canso, canso, canso. E quanto credeci si fa? Era da volo libero, sì. Ah, si prevede la segnata? Trovi qualche cosa da su, ci sta mezzogiornata. E' rimodernato questo. Chi è che l'ha visto a decollare? Il modello va a parte da sé. Andato dritto pure. Andato i da Lucca, andato da dritto. A raccontarla questa cosa vi può dire? Non si crede, non si crede. C'è il filmato, guarda, stavo filmando tutto. San Benito da Lucca. Il modello non c'era. Di dove è andato? Era un modello. Vabbè, che sono cose belle. Sono stupendo, ma almeno un'ora che è andata bene. Sì, è bellino. Questi qui, più si invecchia, più ci si diverte. Questi qui ti danno il senso della... Sì, sì, sì. Sono critici. No, ma che criticità c'ha? Vabbè, è critico questo.